Siamo entrati con le nostre telecamere all'interno del pronto soccorso del nuovo ospedale, uno dei siti più visitati in assoluto dai cittadini, a volte anche più contestati. Facciamo questo percorso proprio per vedere i vari passaggi di accesso al pronto soccorso insieme alla coordinatrice Cinzia Rollino. Intanto grazie per averci accolto e ci spieghi. Allora, la prima fase è proprio l'accettazione. Come funziona? Il paziente può arrivare o in modo autonomo o con l'ambulanza e in camera calda oppure tramite il passaggio pedonale e accede alla prima area del pronto soccorso che è l'accettazione, meglio conosciuta come triage, internazionalmente riconosciuto questo termine. Allora, il paziente viene triagiato da quello che è un infermiere che si trova in questa postazione, un infermiere che ha un'apposita formazione per fare triage e nell'arco di pochi minuti, attraverso segni e sintomi, viene attribuito un codice di priorità alla visita medica e quindi c'è il primo momento di messa in sicurezza del paziente.